La Regione Puglia attiva procedure di esame per guida e accompagnatore turistico. Con il ritiro ufficiale dei bandi da parte della provincia di Taranto, la Regione Puglia può adesso attivare le procedure di esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico. Entro il prossimo mese di settembre saranno quindi pubblicati nuovi bandi per l'intero territorio regionale, i cui contenuti sono stati concordati con sindacati e associazioni di categoria per garantire la massima qualificazione professionale e le maggiori prospettive occupazionali. A tal fine, tra i requisiti imprescindibili, sarà considerata la conoscenza di almeno una lingua straniera. E tutti quelli interessati a questa notizia o che aspirano al ruolo di guida o accompagnatore turistico possono leggere l'intero articolo sul sito di Teleappula all'indirizzo www.telappula.it oppure www.altamuratv.it.